Coniugare la valenza dell'idea progettuale con la qualità del prodotto finale, promuovendo il valore dell'opera costruita. È l'obiettivo dell'edizione 2023 del premio Inarchitettura, promosso dall'Istituto Nazionale di Architettura in Arc e dall'Associazione Costruttoria di Iliance, in collaborazione con Archilovers. 20 premi regionali e nazionali che verranno conferiti il prossimo 3 ottobre alla Mole Van Vitelliana di Ancona. I premi saranno attribuiti a due diverse categorie, interventi di nuova costruzione e di riqualificazione del patrimonio esistente. Le opere dovranno essere ubicate nelle regioni Marche e Umbria e la loro realizzazione deve essere terminata nel periodo compreso tra il 2018 e il 2022. La forza di questo premio è proprio quello di dare credibilità a tutti i professionisti, non solo senior ma anche molti giovani professionisti. Si è riscontrato durante i lavori della Commissione una forte identità che si è sviluppata appunto nella qualità dell'architettura che nelle Marche è presente. Per arrivare all'assegnazione dei premi sono stati selezionati attraverso il portale Archilovers circa 60 lavori, 40 per la regione Marche e 20 per l'Umbria attraverso l'impegno di una giuria qualificata. La costruzione è frutto della progettazione, della costruzione e anche della committenza. La buona costruzione va indicata a tutti perché è una delle fonti principali di benessere nell'uso delle città. È un premio importante che mette in risalto la bellezza del costruito, il costruito funzionale per una città e questa è la sfida che ci attende da qui in avanti con questa nuova amministrazione Silvetti. Quindi siamo contentissimi che finalmente torni ad Ancona, tra l'altro in una location prestigiosa come quella della Mole Van Vitelliana. I vincitori dei premi regionali avranno accesso alle finali nazionali, la cui premiazione si svolgerà il 7 novembre a Venezia, alla CA Giustinian, sede della Biennale di Venezia.